Ben trovati da TG della mobilità, lavori stradali e modifiche del trasporto pubblico in via di Priscilla, iniziato il cantiere da piazza di Novella, piazza Vescovio, sono così deviate le linee di bus 63, 92 e 310, di notte cambio di percorso anche per la N92, sulla stessa via di Priscilla sono disattivate due fermate a Casale Nene, nell'area nord-est di Roma tra Fidene e Casal Boccone, sono deviate le linee 38 e 341 per la chiusura di via Bragaglia tra via Fabrizi e Largo Visconti, infine oggi è l'ultimo giorno di lavori sui binari di piazzale Labicano e da domani il ritorno dei tram sulle linee 2, 3, 5, 14 e 19, è tutto da TG della mobilità. Grazie.